Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justin Eppol. Io sono Justin e oggi vi voglio presentare un gioco estremamente femminile. Vestiti, vestiti ed ancora vestiti. Se fosse una pubblicità probabilmente ora sentireste un urlo che contraddistingue il famoso motto della Zalando, ma dato che siamo in una video recensione, l'urlo sarebbe per l'app della settimana scelta da Apple. Vestirsi per alcuni bambini è la fase più noiosa della giornata, per altri invece da ora una possibilità di intrattenimento. Tocca Taylor è l'app della settimana scelta da Apple e superato lo scetticismo iniziale devo ammettere che effettivamente è ben fatta. Non avremo un vero scopo né tanto meno degli obiettivi, ma potremmo sbizzarrirci come meglio crediamo facendo indossare ogni tipo di capo vestiario ad un personaggio da non scelto, personalizzando sia con i numerosi accessori e i tessuti di default, sia acquistendoli, personalizzandolo sia con i numerosi accessori e tessuti di default, sia acquisendoli attraverso immagini da rullino che da fotocamera. Non mi sento di prolungare la recensione perché onestamente non ci sono molti particolari da illustrarvi, ma voglio comunque citare la funzione fotografia. Attraverso appunto la fotocamera potremmo sovrapporre ovunque vogliamo il nostro personaggio di punto vestito, così da ottenere una sua immagine posizionata nei punti più stravaganti che ci verranno in mente. Una simpatica possibilità con la quale sicuramente ci si potrà divertire. Allora forza, aprite l'armadio e iniziate a vestirli. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.